Ciao ragazzi, mi è appena arrivato il pacco da eBay, si tratta di un DJI Osmo 2 ora lo andremo a vedere nel dettaglio eccolo qua, è un bastone con un gimbal e praticamente serve per tenere fermo il cellulare da eventuali tremoli, vibrazioni quindi quando tu per dire vai a camminare, che vuoi fare un video con questo vengono eliminate tutte le vibrazioni e i tremolini quindi darà un video praticamente perfetto e quindi diciamo che serve per fare video tipo vlog non so, video anche a macchine, ma comunque tante cose ora andremo a vedere bene nel dettaglio di cosa si tratta quindi faremo un unboxing e poi successivamente lo testeremo e proveremo eccoci qua ragazzi, ora facciamo con l'apertura del pacco ecco qua ragazzi, questo qua è il DJI Osmo 2 come vi dicevo, un gimbal, come ovviamente questo è il tasto di accensione il tasto per scattare a foto, questo è per promuovere il gimbal e questo è per aumentare lo zoom al posto del cellulare lo fai da qui adesso vedremo bene come funziona, metteremo il cellulare eccoci qua ragazzi, questo è il DJI Go ce l'ho adesso in mano vedete che se cammino comunque va tutto lineare senza nessun tremolio poi guardate la cosa bella adesso provo a girare la fotocamera guardate un po' io adesso sto muovendo col joystick piano piano se io fisso un punto tipo voglio guardare la macchina lui mi seguirà sempre col punto lì anche se io mi allontano rimane sempre sul punto che ho fissato veramente una cosa stupenda